Siamo al secondo giorno di cantiere, in questa nuova casa in Valle di Paglia, è arrivato il secondo carico di vetro cellulare e ora stiamo posando il vetro cellulare nello schermo di sbancamento della casa, là in fondo, e faremo un totale di 30 centimetri. Domani metteremo il magrone e successivamente la guaina per reclaminizzare. Per oggi è tutto, ti saluto, la mia casa online è edificilipagliaitalia.it. Ciao!